Si deve muovere la mano, la mano deve stare ferma, perché tu sei piccolino. Ma queste strade così deve stare sempre attento. La strada in cui si sputta molto da me anche la scala, può dare problemi. Non devo fermare qui? Ma che macchina è questa? E' una bordo che non è buona, non vedi come è brutta. E' bruttissima una bordo. E' bruttissima una bordo. E' una bordo. Le bordo sono brutte. E' brutta. E' brutta di metà. Tu sei una nìssa. E' brutta. E' brutta... Questa è la strada, l'ha aspettato qua e qua. Questa è anche il prossimo, penso. Non è? Mamma, voglio stare qua. Questa è una strada pure d'altro. È un'altra strada. È un'altra strada, è un'altra strada. È un'altra strada. È un'altra strada. È un'altra strada. Sono stretta le curve, vieni come sono. Sono l'una seguito all'altra. Non vedi se viene a un, non vengono a soli liberi. Non c'è altro per vedere. Sì, sì. Che bello è passata. Abbiamo pure dei Website. Terre? Maurizjs. Beh? Maurizjs. Ehm? 四? È una rotationaw Party! Sì, Toyota Yaris. Stretta che stai con il campo. Quella è l'altra. Questa è la Toyota. Quella è come se avesse un'altra corsia. E' come se mettono la diventa. No ma le Toyota sono lunga. Sì, è stata fatta poco prima. Sì, sì. La Toyota. Sì, la Toyota vuoi. Questa è l'altra, e' la Toyota. Alla vien. Si è l'altra. L'altra è le relazioni. Se avrà l'arriata. Sì, la Viena è la tua! L'altra è la Penge. O la Viena è la Viena! Lo ho ho della viena! Il 2002 è la Benz La Benz è una mi piace Sì, la Benz Questa è la Cateria con un punto E' in curva, curva. Perché sono tutti dalla propria linea qua prima, perché tutti sono rivoluzi, dai? E' un suo spazio. E' un pezzo che è accortato al seno, circa 100 metri su. Tutto il nord di Mercèl su una pesante. Siamo a posto. Ma qui è giro, qui? E' un po' più grande. E' un po' più grande. E' un po' più grande. Vabbè, quella volva è quella lì. Ah, qui è un po' più grande. Una volta? Voi, rispettate tutti. Ah sì. La volva è soppassata. Eh? Sì. La volva è soppassata. Chi? Sì, sì. La volva. Lì, la volva è soppassata. Ma com'è così? E' meglio. Per lì, una volta. Per me? è una lina era quella linea è una cosa da l'olio non è una cosa da l'olio ma questa è una cosa da l'olio è una cosa da l'olio ma ti sta dando